Numerose coppie da tutto il mondo si recano in Ucraina trovando la soluzione ottimale al loro caso di infertilità. Il centro per la riproduzione umana Biotezcom, programmi di surrogazione e di donazione di ovuli con piena garanzia di un risultato positivo. La Biotezcom accoglie coppie sposate di ogni età offrendo programmi medici a prezzi accessibili. Le pazienti felici che tornano a casa con i loro figli sono la nostra principale fonte pubblicitaria. I programmi di surrogazione e ovodonazione sono consentiti nel territorio ucraino e condotti nel pieno rispetto delle leggi locali. I bambini nati dalle coppie infertili che accedono ai nostri programmi sono legalmente riconosciuti. Inoltre, la legge ucraina non impone limiti di età. Ha fatto notizia facendo il giro del mondo il caso di una donna svizzera di 66 anni che rivolgendosi a Biotezcom è rimasta incinta al primo tentativo di Fivet, dando alla luce una coppia di gemelli. I principali canali televisivi di Germania, Francia, Euronews, agenzia stampa americana e italiana e spagnole hanno riportato il lavoro della Biotezcom. I medici del nostro centro avviano il programma solo quando sono certi di ottenere esito positivo. La clinica Biotezcom garantisce risultato positivo, rimborsando il denaro in caso di fallimento. Già a partire dal vostro arrivo in uno degli aeroporti di Kiev avrà inizio il nostro servizio di assistenza e supporto totale. Un nostro autista vi accompagnerà alla clinica comodamente in auto. Una volta raggiunta Biotezcom incontrerete la nostra manager che vi seguirà passo passo durante tutto il programma, supportandovi in tutte le fasi. I nostri manager sono professionisti qualificati che parlano frequentemente italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, cinese, rumeno ed ebraico. Riceverete in modo del tutto gratuito il servizio di accoglienza, transfer, alloggio, visita medica di consulenza con interpreti prima ancora di aver firmato il contratto. Nel centro medico Biotezcom c'è la possibilità di scegliere tra tre differenti pacchetti medici, Economy Plus Surrogacy, al prezzo di 29.900 euro. Questo contratto include i test medici, i farmaci, il supporto legale, l'alloggio, il cibo e il transfer. Il pacchetto Standard Surrogacy, offerto al prezzo di 39.900 euro, include il servizio PGD, utile per verificare eventuali anomalie genetiche del bambino. In caso di nascita prematura, tutte le spese per i trattamenti medici aggiuntivi e l'eventuale utilizzo di equipaggiamento medico speciale sono coperti dalla clinica a partire dal primo giorno di nascita. Viene fornito inoltre un servizio di babysitting per 4 ore al giorno e tutte le visite mediche necessarie. In caso remoto di aborto spontaneo dopo 12 settimane, il compenso per la madre surrogata viene pagato dalla clinica. Il pacchetto Standard include anche ulteriori servizi di supporto trasporto con autista, confortevole appartamento separato ed elegantemente arredato collocato nel centro di Kiev e dotato di tutti i comfort come aria condizionata, tv, satellitare, wifi e servizio di polizia. Verranno offerti deliziosi pasti che accontenteranno tutti i gusti della cucina ucraina ed internazionale con ricchi menu che includono primo, secondo, contorno e dessert. Verrà fornito per chi lo desidera uno smartphone e una SIM card di un operatore ucraino. Per coloro che desiderano ricevere un livello di servizi particolarmente elevato, viene proposto il pacchetto VIP surrogacy al prezzo di 49.900 euro. Un lussuoso servizio di accoglienza, autista personale ed auto di classe VIP. Pasti serviti presso il ristorante, elegante appartamento separato nel centro di Kiev. Scegliendo il pacchetto VIP surrogacy riceverete il servizio da parte di madre surrogata la quale ha già avuto una precedente esperienza di surrogazione. Un'infermiera verrà direttamente nel vostro appartamento per fare le analisi del sangue. Le pazienti riceveranno il servizio di PGD per verificare eventuali anomalie genetiche e scoprire il sesso del bambino. Riceverete anche il pacchetto del neonato con tutto l'occorrente per prendersi cura del nascituro. Inoltre alle pazienti verrà fornito servizio di babysitting dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera. Il pediatra visiterà il bambino ogni giorno. Firmando il contratto e scegliendo uno dei programmi, la suddivisione del pagamento si articolerà in 5 tappe. Dopo la firma del contratto, prima della fecondazione, quando la madre surrogata arriva alla dodicesima settimana di gravidanza, dopo la nascita del bambino, dopo la ricezione del certificato di nascita del bambino. Tutti i programmi di surrogazione sono studiati da medici altamente qualificati. In base alla diagnosi e ai risultati degli esami medici, i dottori possono raccomandare il programma di surrogazione utilizzando i propri ovuli oppure quelli di una donatrice. Tutte le procedure mediche vengono svolte nel totale rispetto dalla legge ucraina. I medici che lavorano al centro Biotescom utilizzano i più efficienti e moderni metodi di fecondazione artificiale, garantendo un'elevatissima percentuale di successo. Utilizzo di ovociti freschi, spermiogramma ed analisi dello sperma per apoptosi, test del cariotipo, selezione dei giorni migliori per il transfert embrionale senza interferire sulla struttura ed integrità dell'endometrio, blastocisti, conduzione del programma diagnostico PGD, prevenzione finalizzata a garantire la mancanza di eventuali disturbi genetici del bambino. Iniziando il programma di maternità surrogata mediante ovodonazione, si ha l'opportunità di scegliere tra le donatrici che si avvicina di più alle vostre richieste. I nostri specialisti selezionano accuratamente le candidate che accedono ai programmi di donazione. Esso vengono sottoposte ad una serie di esami medici e psicologici. Tuttavia, solo 2 donne su 10 che desiderano ridiventare donatrici di ovuli superano i nostri test. Si tratta di donne di bell'aspetto, in perfetta salute e con un alto livello di educazione. Prestiamo molta attenzione anche alle madri surrogate. È importante che il bambino sia in condizioni favorevoli e in buona salute durante tutti i 9 mesi di gravidanza. Tutte le candidate per i programmi di surrogazione fanno dettagliati esami medici, test psicologici e solo 2 donne su 10 che sono disponibili a partorire un bambino a favore di una coppia sterile parteciperanno al programma. Il Centro per la Riproduzione Umana Biotescom garantisce risultati positivi e rimborsa i soldi in caso di fallimento. Durante l'intero periodo del programma, le nostre manager vi accompagnerà organizzando e coordinando l'intero processo. Lei risponderà a tutte le vostre domande, assistendovi durante le visite mediche vi fornirà le informazioni sulle condizioni di salute della madre surrogata e del bambino e sui risultati dei test delle ecografie. Le manager della Biotescom sono accreditate per lavorare nelle istituzioni statali e danno una vasta competenza ed esperienza pratica relativa alla preparazione della documentazione a corrente. Vi sopporteranno nella compilazione di tutti i moduli, aiutandovi ad ottenere tutti quelli necessari presso l'ambasciata italiana. Tutte le coppie che fanno surrogazione presso la Biotescom ritornano a casa serenamente con i loro bambini. Visitando il Centro Medico Biotescom troverete sicuramente la felicità di diventare genitori, seppur ricevendo un alto livello dei servizi offerti risparmirete molto denaro. In aggiunta avrete la grande opportunità di visitare una delle più belle capitali europee, Kiev, le manager di Biotescom saranno liete di organizzare il vostro tempo libero in questa splendida città. Interessanti escursioni, indimenticabili passeggiate, piatti squisiti da gustare nei ristoranti locali. Il servizio su misure elaborato per voi All Inclusive è un programma a prezzi molto più bassi rispetto a quelli delle cliniche europee ed americane e per di più con il valore aggiunto del risultato garantito senza limiti di età. La Biotescom è la vostra migliore scelta per la maternità surrogata e l'ovodonazione. Biotescom, non c'è infertilità assoluta.